ad alzare la palla 2 e allora giù il gettone si comincia Jones che poi serve fuori il pallone proprio al suo numero 7, tiro in corsa di Moretto alto di Jones per favorire Sanford che riesce a vedere il taglio di Jones, comodo appoggio da Tom e Salva Piesaro Delfino, palleggio, arresto, tripla avversa per la squadra di Messina che va dominato sotto i tabelloni, tanto Camara chiamato da Sanford per attaccare contro Ricci, palleggio, arresto e canestro di Lenin che prova ad attaccare Camara, non può commettere il terzo fallo, riesce però in ogni modo via combiliga, Lemb vuole attaccare, tiro in corsa, torto, rimbalzo di Camara che prova a tirare sopra le mani di periodo Piesaro, ancora in vantaggio, prova a resistere, tambone, palleggio, arresto e canestro penetrazione di Lemb che riesce effettivamente alzare nel proprio attacco tambone, palleggio, arresto e ancora canestro nelle mani di Larsson dentro sul taglio di Johnson, grande Sanford è arrivato il taglio di Johnson, non lo serve Sanford, ha ragione rivalizzato il seriano dopo la richiesta del suo ex allenatore di club a Ivompton cambiano di nuovo i due, penetrazione di Polla che cerca la rovesciata, viene stoppato da Demetrio dei falli dice 11 commessi da Pesaro, 5 per Milano, l'Olimpia la squadra che subisce più falli e ne commette di meno Delfino prova ad alzare per Jones che tira sulla sirena e se bisogna anche di tiri liberi per continuare a mantenere il vantaggio Moretti dentro per Jones, altro tiro da 2 Delfino per Moretti che trova il tiro da 3 Sì, nel primavera 2020 Dentro invece il secondo, 4 secondi L'inizazione balla alzata da Sanford La stagione in lunetta Qua fa 2 su 2, deve da Tambone 5 secondi nell'azione, Tambone da 2 punti perché un piede sulla linea Moretti Ancora una volta penetra, tolta alza il pallone per Jones Aspetta Tambone Che prova ad attaccare Grant Step back, tiro da 3 punti Riesce a recuperare il pallone Tambone vede Sanford Che s***a Moretti deve tirare Invece scarica per Tambone Tiro da 3 punti segnato Hall però sbaglia il secondo Rimbalzo di Jones Alla prima azione della partita o quasi E qui fa 2 su 2 Delfino Adesso va con questi 5 da diversi minuti Luca Banchi L'argentino contro 1 Spalla canestro C'è lo spazio per provare ad arrivare fin sotto Usa il fisico Si appoggia al vetro Hall Palleggio Scarico Chilometri per Melli Che si alza e spara Sbaglia la tripla 1 Oltre il 90% 20 su 22 Vediamo qual è la decisione di Tambone Si tira per segnare E lo vende la Carpegna Ma non è finita 4 secondi sul cronometro Milano Trova la rimessa per Melli Dileni Disegnata la perfezione L'azione Corto il tiro di Dileni Hall Non sbaglia Non si